Ragazzi scusate ma devo capire una cosa perché di recente mi ha fatto notare che forse faccio una cosa strana Allora se io ho una felpa in questo modo che è girata al contrario Voi la prendete, la girate oppure la mettete in questo modo Perché io da bambino la metto in questo modo qua perché è oggettivamente più rapido, ce l'hai già addosso e puoi uscire Però non so se ho rivoluzionato il mondo della moda oppure sono solo l'unico come sempre Vi prego ditemi che l'ho fatta anche voi Ha diviso due Aero prof di matematica dimmi come ragioni Non capisco le tue espressioni e nemmeno come funzioni Mi gira la testa tipo la patrice, il tuo cellulare è una calcolatrice Se c'è un esercizio che non mi è venuto mi chiami per farlo io resto seduto